Oggi siamo qui ad ESAC Formazione per concludere questo percorso di due mesi su quella che è la pasticceria. Non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo percorso che è quello dello stage per riuscire ad approfondire sempre di più e nonostante ci dispiace lasciare le amicizie che abbiamo creato qui comunque usciamo tutti molto motivati e contenti di aver intrapreso questa strada. Il lavoro è stato molto intenso, molto impegnativo però gratificante e con molte soddisfazioni. 22 i ragazzi che sono usciti, adesso inizia la fase di stage all'interno delle aziende che trovano in chi esce da questi percorsi formativi delle persone già pronte. Durante questi due mesi qui i ragazzi hanno avuto modo di incontrare diversi pasticceri ma non solo pasticceri ma anche degli altri professionisti che li hanno indirizzati nel mondo del lavoro. Ho apprezzato l'organizzazione, le persone che hanno fatto parte dell'organizzazione che sono sempre state molto disponibili e il maestro che sicuramente ci ha aiutato e ha creduto in noi e il gruppo di fare le cose anche insieme in laboratorio. Questo anno devo dire la verità che la qualità degli allievi è veramente stata molto alta. Ovviamente questi ragazzi che escono a questo percorso sono effettivamente preparati per affrontare il mondo del lavoro, perciò sicuramente sono in grado di approcciare il meglio le situazioni. A livello professionale ovviamente ci sono le basi ecco e a livello motivazionale tanti tanti spunti per andare avanti sicuramente imparare cose nuove. Ho imparato tantissimo, ho finito un percorso, adesso ne inizia un altro che comunque è inerente e quindi c'è un po' di timore ma comunque è positivo e pronto.